Speravamo, insomma, viste le rassicurazioni iniziali, che questa appunto antenna non venisse mai messa in funzione. La cosa che ci rammarica è che da una parte siamo contenti che siamo riusciti ad avere un dialogo, siamo riusciti a portare la problematica all'attenzione del Consiglio Comunale, attraverso un'interrogazione fatta appunto dalla Lega e successivamente abbiamo anche avuto appunto riscontro anche dall'assessore all'ambiente e da ultimo anche dal capo di gabinetto. L'unica cosa che vorremmo sostanzialmente capire è esattamente il giorno in cui verrà attivata questa antenna e il giorno in cui verrà disattivata. L'altra cosa spiacevole è che effettivamente l'installazione, non sappiamo se c'è, verrà posto appunto rimedio o no o c'è stato effettivamente un errore di installazione, su questo ci potrà rispondere soltanto effettivamente la società che ha provveduto ad effettuare l'installazione e questo rumore appunto acustico che è diventato veramente un problema molto serio e di cui non si fa riferimento, vi assicuro, né nel progetto né tantomeno l'ARPAM l'ha preso in considerazione perché l'ARPAM è tenuta a dare una valutazione sul campo elettromagnatico. Ho provveduto a mettere appunto a conoscenza di questa situazione tutti gli organi dell'amministrazione comunale indifferentemente di maggioranza, di minoranza e su questo abbiamo avuto appunto solidarietà. La cosa che voglio appunto mettere in evidenza è che non siamo dei bacchettoni, non siamo dei fanatici, non è che effettivamente protestiamo, facciamo delle proteste senza senso, il punto è che qui abitano molte persone anziane che trascorrono maggior parte del tempo appunto dentro casa, c'è un asilo dove ci sono dei bambini che trascorrono gran parte della giornata dentro appunto la struttura. Io stessa sono malato oncologico e vi assicuro che dopo aver passato 3-4 ore in oncologia, tornare a casa e non avere appunto neanche il riposo e la pace, poter godere del riposo e della pace della propria abitazione, vi assicuro che è una cosa effettivamente terrificante. Oggi sono qui perché ci si ritrova questa antenna in una zona molto bella della città che chiaramente comporterà da un lato un problema sicuramente di onde elettromagnetiche per la salute, c'è un asilo vicinissimo e la svalutazione di questi immobili, quindi queste persone hanno tutto il diritto di essere ascoltati e è ora di finirla con questo sistema delle antenne che nascono da un giorno all'altro. C'è una mancata programmazione da parte del Comune di Pesaro, il piano antenne ci dicono che è in fase di progettazione con un nuovo studio e quindi io chiedo che almeno in attesa del nuovo piano si congeli subito questa domanda, questa situazione affinché questi cittadini possano un attimino avere il tempo anche di difendersi con tutti gli strumenti anche legali del caso per riuscire a garantire la loro salute e il valore dei loro immobili. Questa antenna produce a livello di danno materiale e sociale perché le nostre abitazioni, le nostre proprietà si sono svalutate almeno il 40%, quindi possiamo accettare una cosa del genere? La richiesta è che venga bloccata come le altre antenne che sono state richieste quest'anno da parte delle varie compagnie di telefonia, sono state tutte temporaneamente sospese per il tempo che la Polab, un'azienda incaricata dal Comune, per fare il nuovo piano antenne, il nuovo piano regolatore. Quindi noi chiediamo che come le altre questa venga sospesa perché noi siamo cittadini come gli altri, quindi la sospendete anche questa per quattro mesi e poi quando ci sarà il nuovo piano antenne, se voi ritenete, ma a questo punto non credo proprio che questo sia un sito idoneo, ok la mettete, fissa però, non questo totem, la voglio fissa.